Non so, sono diventato vecchiarello ormai, sono mica giornacello come te, e allora, si, aspetta fammi scrivere, e allora, si, ok, allora, Italia a chilometro 1, No, Giulietta, Università, Ontario, da Italia, domanda numero 7, Livorno, Firenze, Napoli, Uber. E se lo dite, se te le manos, Uber, la terza. No, va bene, va bene, passa.